Sì, sì, Marco. Ah, ci vuole. Ma vuoi mettere l'hunter che ha lo stesso aspetto dei suoi pet? Oddio, che brutto. Siamo su solo io e Zarma. Aiuto, ho paura. Zarma, mi raccomando, curalo, no, è serio. Ho Zarma dietro. Col pet e Zarma, con la tartaruga. Zarma, perché non c'è? Cerchio verde, no. Comunque, però, un healer ci voleva fare in alto. Perché io sto morendo. Campienino. Vabbè, qua arrivano gli altri. Non si preoccupa. Venite al Via Ola, comunque. Gruppi due al quattro. Stai in alto, te no? Sì, sì, sono in alto. Eccoli. C'è qualcuno giù o no? No, eh. Come no? No, mi pare che... Vicino a Eonar non c'è nessuno, no? Ah, giù giù. No, non c'è nessuno. Entrata, entrata. Gruppi due al quattro. Ma qui in alto e niente? No, ma... Vabbè, sei arrivato lì al portale Medico, vabbè. Sì. Facciamo nel Medico, dai. Questa, all'inizio. Arrivano, 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 arrivano. Arrivano in alto, ragazzi. Arrivano. No, ok. Non c'è nessuno. Questa, quanto ho messo. Vabbè. Arrivano, 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 arrivano. Arrivano. Arrivano, ok. Sì, legion e invasion, sì, stanno arrivando All'entrata comunque i gruppi 2 e 4 venite a ammazzare questo cosetto fa, cazzo, robottini Perché adesso anche all'entrata sotto stanno spawnando degli add, quindi al viola Quindi appena muore l'oblidirete, andate sotto C'è quanta cosa non c'è, le ho slowate, le ho slowate Cleave, tanto cleave Ok, noi abbiamo finito, lo esaperto Qua sotto ancora non lo so All'alportale dice Entrata, entrata, entrata C'è solo un gruppo piccolo Ah no, ci stanno per l'altro C'è nero, c'è nero Questa non può nemmeno essere slowato, quindi veloci con le piedi C'è un gruppo piccolo I pipistrelli solo i ranged possono farli quindi tutti i ranged vadano là Ok in alto Arrivano in alto I pipistrelli raga Ancora tutti vivi Ma iron lo tiriamo E' il muovo di iron, che d'occhio Ok Fai quello grosso Ah guarda sto sconto del mondo Mi raccomando aiutatemi a interromperlo Entrata Aspetalo Sarma E' morto Incompetente No cure non fa Muto Sì In alto sta andando su piano Siamo Ok Siete abbastanza povi Sì infatti Magari gruppi si organizzasse Comunque all'entrata c'è uno di questi cosi Ok abbiamo finito Ok andiamo all'entrata Qualcuno sta picchiando boss Il nostro No non c'è nessuno C'è qualcuno che è passato no No non c'è nessuno Però le sta bombardando quella specie di senti Sta bombardando Morirò Morirò Oh Sì dove sei? Eh stiamo tutti uscirando negli altri Ragazzi in alto eh No Trediamo Finito Andato Andato Ciao Ciao Sì Sì